Tutte queste attività sono molto popolari, secondo me in questi progetti di innovazione sta lasciando a mettere in piedi una tema foca di un'immunicazione popolare, che è un po' quello che si sentiva prima. L'intercomissione oggi è molto ampia, è molto importante. Quindi non esistono nulla gente che si occupa solo di art, di attraverso il rapporto del sito o solo di te. Oggi, gravi e piccole aziende devono fare questo progetto, perché sennò il progetto non funziona, non funziona, non funziona, è talmente internazionale, talmente diritto, talmente tappetizzato e non lo metti più.